Come cercare un trattamento per un disturbo psichiatrico. Se si dispone di un disturbo psichiatrico, o sospettate di avere uno, cerca di aiuto professionale è la chiave. Con una corretta informazione e consulenza, è possibile esplorare le opzioni di trattamento e chiedere aiuto. Ammettere di avere un problema. Il primo passo per ricevere aiuto, è ammettere a te stesso che hai un problema. In tal modo, si è in grado di realizzare il problema, dire agli altri, e ricevere aiuto. Riconoscere i sintomi. Al fine di comprendere appieno e far fronte con il disordine, è necessario educare te stesso su sua diagnosi, gli effetti collaterali, il trattamento e le condizioni di lungo termine. Per sapere se si tratta di una predisposizione genetica sarà aiutare ad affrontare e trattare i sintomi o malattia stessa. Ci sono fattori di rischio genetici, biologici, ambientali, e psicologici per lo sviluppo di un disturbo psicotico. Una persona con un disturbo psicotico non può avere tutte le caratteristiche esteriori di essere malato, ma in altri casi la malattia può essere più evidente, causando comportamenti bizzarri. Cambiamenti di comportamento possono includere i seguenti. A, il ritiro sociale. B, agitazione o ansia. C, depersonalizzazione, ansia intensa e la sensazione di essere irreale. D, perdita di appetito. E, peggioramento igiene. F, eloquio disorganizzato e comportamenti. G, il comportamento catatonica, in cui il corpo della persona interessata può essere rigido e la persona può rispondere. H, modifiche problemi con il pensiero che possono verificarsi in un disturbo psicotico comprendono deliri, allucinazioni, la sensazione di essere controllati da forze esterne, pensieri disorganizzati. Avere familiarità con i tipi di disturbi psichiatrici. I seguenti tipi di psicosi sono chiamati disturbi psicotici. Essi possono essere innescati da stress, uso di droghe o alcol, infortunio o malattia, o possono comparire improprio. A, bipolare disturbo. Quando qualcuno ha il disturbo bipolare, i suoi stati d'animo oscillare da molto elevato a molto bassa. Quando il suo umore è alto e positivo, lui o lei può avere sintomi di psicosi. L'individuo può sentirsi estremamente buono e lui crede o lei ha poteri speciali. Quando il suo umore è depresso, l'individuo può avere sintomi psicotici che lo rendono o sentire arrabbiato, triste, o spaventato. Questi sintomi comprendono pensando che qualcuno sta cercando di far male a lui o lei. B, delirante disturbo. Una persona affetta da disturbo delirante crede fortemente in cose che non sono reali. C, psichotic depressione. Questo è depressione maggiore con sintomi psicotici. D, schizofrenia. La schizofrenia è una psicosi che dura più di sei mesi. La schizofrenia è una malattia per tutta la vita. Parla con un terapeuta. Parlando con un terapeuta è un modo per imparare e aprirsi e capire il vostro disabilità. I terapeuti sono in grado di aiutare a far fronte con e capire le ragioni e i torti della situazione. Sono anche consapevole di farmaci, trattamenti e altri psicologi più avanzati a chiedere aiuto a. Nel valutare una persona che soffre di sintomi psicotici, gli operatori sanitari avranno una attenta storia dei sintomi da parte della persona e le persone care, così come condurre una valutazione medica, comprese le analisi di laboratorio necessarie e una valutazione di salute mentale. Essi possono anche raccomandare a uno psicologo per un ulteriore trattamento, se il farmaco è necessaria. Vedendo uno psicologo sarà in grado di aiutarvi a decidere quale sia la migliore forma di trattamento possibile. Gli psicologi sono in grado di modificare e cambiare i farmaci a base di chimica del corpo e dei suoi effetti. A volte, se un tipo non funziona, tratteranno il disturbo con due o più. Farmaci variano da persona a persona, ciascuno avente un effetto differente. È compito dello psicologo per determinare quale farmaco è giusto per ogni individuo, a seconda delle circostanze. Essere pronti per eventuali interventi necessari. In casi estremi, può verificarsi il ricovero in ospedale. Il ricovero si verifica quando trattamenti di terapia e le tue psicologi hanno fallito. Ciò si verifica quando si dispone di uno. a. Recidivato. B. Avere un episodio maniacale. Rimuovere stimoli negativi. In tal modo, questo rende è possibile per il paziente di sopportare un ambiente privo di stress, potendo passare in una luce positiva dalla situazione. Stimoli negativi possono causare un individuo di ricaduta o di avere un episodio maniacale. Parlami di ciò. Parlarne, se i tuoi amici, familiari o gruppi giovanili, terapia, permette di venire a patti con la situazione e sarà molto probabilmente permetterà di informare ed educare altri sulla malattia e di ottenere un punto di diverso vista o una raccomandazione. In molte comunità, ci sono gruppi di sostegno disposti ad ascoltare e sostenere i vostri fallimenti e successi avendo incontri settimanali e sessioni informative. Esplorare le opzioni di trattamento. La maggior parte dei trattamenti efficaci per i disturbi psicotici sono complete, coinvolgendo farmaci appropriati, l'educazione della salute mentale, e la psicoterapia per il malato di psicosi e dei suoi cari. Esso comprende anche il coinvolgimento della comunità a servizi di supporto in caso di necessità. Farmaci antipsicotici sono dimostrati efficaci nel trattamento della psicosi acute e riducendo il rischio di futuri episodi psicotici. Dal momento che le persone con un disturbo psicotico sono ad aumentato rischio di sviluppare anche depressione, farmaci che affrontano tale sintomo può essere di grande beneficio pure. Prevenzione della psicosi coinvolge principalmente prevenire o ridurre l'impatto dei fattori che mettono la persona ha il rischio di sviluppare un disturbo psicotico, eliminando gli stimoli che un tempo era la causa o ha avuto un effetto sul disturbo. La maggior parte delle persone che soffrono di psicosi si riprenderà con un trattamento adeguato. Anche nei casi più gravi, farmaci e la terapia può aiutare le persone a vivere una vita normale. Essere consapevoli delle complicazioni. Psicosi non ha molte complicazioni mediche. Tuttavia, se non trattata, può rendere difficile per le persone con questo disturbo di prendersi cura di se stessi. Questo potrebbe causare altre malattie per andare non trattati. Lavorare per la remissione. Quando una opportuna combinazione di eventi ha reso in grado di far fronte con il disordine, si sono ormai considerati stabili e in grado di funzionare nelle società occhi senza un'etichetta o occhio vigile. Anche con la continuazione del trattamento dei disturbi psicotici più croniche o recidivanti, alcuni pazienti hanno recidive. Di gran lunga, però, i più alti tassi di ricaduta di tali disturbi si vedono quando il farmaco viene interrotto. La grande maggioranza dei pazienti esperienza notevole miglioramento se trattati con agenti antipsicotici. Alcuni pazienti, tuttavia, non rispondono ai farmaci, e alcuni possono sembrare di non averne bisogno.